Ho capito bene chi ha detto che non è per buttare via tutto quello che ha fatto Salvini? Sì, non sono per buttare via tutto quello che ha fatto Salvini. Soprattutto io credo, adesso metto a fare l'elenco delle cose che cancellerei, è lungo. Sarei curioso di quelle che non cancellerebbe? Adesso, per esempio, io credo che anche, c'è qualcosa da, lo dico meglio allora, c'è qualcosa da correggere anche in quello che ha fatto il centro-sinistra. Cioè, noi su questo tema qui non possiamo prescindere da una, come dire, da una sensibilità, da una percezione che c'ha la Cosa Popolare. Noi siamo apparsi spesso troppo genericamente buonisti. Dopo questa cosa di Salvini, che io partirai da cosa del Presidente della Repubblica e non mi fermerai lì perché comincia la legittima difesa, una serie di robe, ecco. Però dopo questo passaggio, io credo che ci sia anche una lezione, che noi dobbiamo effettivamente trovare una chiave, io cercavo di dirla prima, che si carichi del problema, che non lo ignori. La chiave era già Minniti, la chiave? Io di Minniti, a cui voglio bene, lui lo sa, io anche a lui riprovo una cosa che non è colpa sua, ma quel decreto lì che era tosto, eh, poi potevi vedere in Libia se ce l'avamo noi, eccetera, alla fine mettici due articoli sullo Jussoli, dai, che almeno fai vedere che sei loro, ma la tua prospettiva è l'altra.